ciao a tutti oggi video super veloce per realizzare insieme questo cuoricino userò questo cotone ricamo 8 dell'adria fill circa due mesi fa ho fatto una piccola scorta di questi gommitolini devo dire la verità mi sono trovata veramente molto bene soprattutto per realizzare lavori piccoli come orecchini e bracciali cominciamo col crearci la prima catenella di base più altre 4 devono essere 5 in tutta chiudiamo con una maglia bassissima ricominciamo il giro con 4 catenelle che fungeranno da maglie alte doppie più altre 19 20 in tutto minuto mi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una catenella che fungerà da maglia bassa, una maglia alta doppia, saltando due punti. Una catenella, un'altra maglia alta doppia, puntandola sempre nello stesso punto di base. Un'altra catenella, un'altra maglia alta doppia, puntata nella stessa maglia di base. Questo lavoro per otto volte. Un'altra maglia alta doppia, puntata nella stessa maglia alta doppia, puntata nella stessa maglia alta doppia. Ecco, dopo aver realizzato le nostre otto maglie alte doppie, saltiamo due punti e realizziamo un punto basso. Altri tre punti bassi. Il quarto, una catenella. E un altro punto basso nella maglia sottostante, sempre nella stessa maglia. Facciamo quattro punti bassi. E ricominciamo con le maglie alte doppie, saltando due punti. Una catenella. Una catenella. E un'altra maglia alta doppia, sempre nello stesso punto. Una catenella. Una catenella. Maglia alta doppia. Maglia alta. Maglia alta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con una maglia massissima. Il nostro cuoricino è realizzato. Grazie a tutti.